È stato presentato ad Arezzo, nel Palazzo di Fraternita, alla presenza dell'autore, il libro Profili giuridici e pastorali del Sinodo Diocesano di Monsignor Vittorio Gepponi, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico d'Appello di Roma. Il volume è una approfondita analisi di due Sinodi Diocesani che hanno alcuni significativi punti in comune. Il principale è il fatto che entrambi sono stati celebrati dopo un concilio, quello indetto da Monsignor Dionisio Bussotti nel 1641 per la Diocesi di Sansepolcro aveva come fine quello di tradurre i dettati tridentini nella sua chiesa diocesana. Il Sinodo promosso invece da Monsignor Teresforo Giovanni Cioli negli anni 1978-1982 per la Diocesi di Arezzo nasceva dagli entusiasmi e dai venti di novità portati dal concilio Vaticano II. Un libro che nasce con la volontà di contribuire al Sinodo che la Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro si appresta ad avviare quando avrà terminato i lavori della fase preparatoria. Questa opera nasce proprio da questa volontà intanto di contribuire in quello che credo ci sia materia per contribuire al Sinodo indetto da Monsignor Riccardo Fontana per la Diocesi. Un evento straordinario, storico proprio perché non abbiamo un Sinodo dal 1935 quindi la nuova Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro lavorerà per questo Sinodo. Questo è un libro che aiuta a sapere storicamente cos'è il Sinodo quindi vedere nella storia la sua evoluzione e oggi come ci viene consegnato come strumento di lavoro e strumento attuativo in una Diocesi. Secondo, prende spunto le due esperienze sinodali, una antica e una più recente, quella tentata da Monsignor Cioli nel 1978 e vedere di tirar fuori il buono che c'è stato in quelle esperienze per contribuire a fare un lavoro sinodale serio e proficuo oggi. Quindi profili giuridici e pastorali perché un Sinodo è allo stesso tempo il combinato di una strutturazione giuridica e distanze pastorali. Fare a meno dell'uno e dell'altro non corrisponde a un Sinodo.